allora ci eravamo lasciati ieri che avevo detto che oggi avremmo parlato di complessità computazionale allora oggi vogliamo cominciare a preoccuparci non solo di avere una soluzione corretta di creare questa funzione che risolve correttamente il problema ma anche di quanto tempo ci mette a eseguirsi questa funzione vogliamo avere una stima di quanto tempo dovremmo attendere prima di avere un risultato cominciamo a pensare un po che unità di tempo utilizzare perché ci sono potremmo parlare di secondi potremmo parlare di cicli di clock potremmo parlare di tante cose in realtà adesso vi introdurrò una teoria e in particolare vi introdurrò una cosa che chiamano i simboli di Landau che ci permettono di fare queste considerazioni senza doverci preoccupare di questa cosa dell'unità di tempo nello specifico nello specifico intanto però possiamo dire delle cose per esempio una cosa che possiamo assumere anzi una cosa che assumeremo è che ad esempio le operazioni base quindi somma sottrazione divisione moltiplicazione modulo e basta tendenzialmente comunque tutte quante le operazioni base possiamo dire che ci metteranno un tempo costante cioè cosa vuol dire non sappiamo quanto tempo ci mettono magari ci mettono un millisecondo magari ci mettono un microsecondo boh a eseguirsi ma sicuramente ci mettono in un qualche modo sempre lo stesso tempo sempre boundato dallo stesso tempo sicuramente possiamo dire che ognuna di queste operazioni tipo in un secondo termina quindi queste qua sono operazioni che ci mettono un tempo costante allora cosa possiamo fare cerchiamo di avere una teoria che riesca a avere questo concetto di costante come un unico grande insieme in modo che possiamo parlare tutte quante le operazioni base nello stesso modo e cosa facciamo introduciamo i simboli della dao allora per poter dire cos'è un simbolo di landau prima devo fare un piccolo escursus matematico nello specifico mi serve parlare di cos'è un limite qualcuno di voi magari lo so già qualcuno di voi probabilmente no non entrerò in dettaglissimo ma tendenzialmente noi tra l'altro utilizzeremo solamente i limiti per n che tendono a infinito questo qua è un infinito osceno ok questo è leggermente meglio limite per n che tende a infinito cosa vuol dire? vuol dire il limite è un operatore che riguarda il comportamento di una certa funzione per valori del parametro in questo caso n che vanno tendono a essere sempre più grossi infinitamente grossi quindi ad esempio per esempio se io ho il limite per n che tende a infinito di n ok quindi se io sto considerando questo polinomio qua che è solo n per n che tende a infinito questa cosa sarà paresemente uguale a infinito perché n sta tendendo a infinito e quindi se devo considerare questo polinomio per n che va a infinito ovviamente fa infinito ad esempio oppure potrei dover considerare che ne so n quadro n quadro uguale stesso risultato fa ancora infinito perché se n tende a infinito se qualcosa che va a tendere a infinito al quadrato fa ancora infinito invece ad esempio che ne so se faccio il limite di 42 il limite per n che tende a infinito di 42 che è un polinomio è una costante è un polinomio un po' un po' fasullo questo qua ovviamente fa 42 perché anche se n tende a infinito quando entro n non ne parliamo e quindi il limite per qualunque variabile che tende a qualunque cosa di una costante è quella costante stessa le cose diventano un pochino più interessanti quando abbiamo un rapporto per esempio che ne so qual è il limite di che ne so 2n più 1 fratto n questo non è un n questo è ok per esempio se abbiamo che ne so il limite per n che tende a infinito di 2n più 1 fratto n perché qua non è banale perché qua abbiamo che sopra ci viene una cosa che è tipo 2 per infinito più 1 sotto invece ci viene una cosa che è infinito quindi abbiamo una forma che è un infinito fratto un infinito e non è banale vedere che cosa quale debba essere il risultato intuitivamente e questo in realtà è vero per quando stiamo trattando dei polinomi quando abbiamo il limite di un rapporto tendenzialmente ignoriamo tutti i termini che non sono del grado massimo di quel polinomio quindi in questo caso abbiamo un termine di grado 0 che ignoriamo quando abbiamo altri termini una volta che abbiamo ignorato tutti i termini di grado non massimo di quel polinomio possiamo sempre semplificare quindi in questo caso n e n se ne vanno e questa cosa fa 2 ok quindi provateci se volete se prendete una calcolatrice e provate per valori di n enormi quindi che ne so 100.000 10.000 1 milione 1 miliardo eccetera eccetera e provate a vedere qual è il valore di questa cosa man mano che aumentate la n che ci mettete qua dentro questa cosa tenderà sempre più a essere 2 si avvicina a essere 2 questo è quello che intendiamo con limite qual è il comportamento di questa funzione man mano che n tende a essere infinita bene faccio un altro esempio magari ad esempio se noi abbiamo che ne so 3n al quadrato più 5 fratto che ne so n cubo più 2n ok nella chat qualcuno mi scrive secondo lui quanto vale questo limite ricordatevi eliminiamo da ogni polinomio i termini che non sono di grado massimo e poi semplifichiamo allora qua mi dicono ok giustamente mi dicono un 3 fratto infinito perfetto perché cosa abbiamo fatto questo Stefano che me lo dice Stefano che se non mi ricordo male viene dalla mia stessa scuola che era il Canizzaro allora quindi abbiamo eliminato questo abbiamo eliminato questo e ora possiamo semplificare quindi questo se ne va questo se ne va rimane 3 fratto n e 3 fratto n per n che tende a infinito è 3 fratto una roba che diventa sempre più grossa e quindi giustamente come dice Stefano fa 0 benissimo giusto per avere anche l'opposto di questo ultimo esempio se noi avessimo avuto che non so ancora 3 n quadro più 5 fratto 5 n per dire levavamo questo semplificavamo quindi questo se ne va questo se ne va ci rimane 3 quinti n n tende a infinito e quella costante non può combattere n che va avanti all'infinito quindi questa cosa fa infinito ok bene quindi questi questa è micro introduzione dei limiti ora anche i simboli di Landau noi adesso parliamo solamente di funzioni ok noi io vi semplifico tutto ciò perché parlo di funzioni che vanno solamente da n in n ok quindi vi darò una trattazione semplificata dei simboli di Landau perché assumo che tutte quante le funzioni che stiamo trattando tutti i polinomi quindi che stiamo trattando vadano dai numeri naturali ai numeri naturali quindi abbiamo tutta roba non negativa o zero o positiva ok cosa sono questi famigerati simboli di Landau sono dei simboli che definiscono delle classi di funzioni prendiamo iniziamo dal più famoso diciamo che una certa funzione fdn appartiene alla classe o grande di gdn ok se il limite per n che tende a infinito di fdn fratto gdn è minore di infinito ovvero se è finito ok quindi cosa abbiamo fatto qua abbiamo definito una classe di funzioni questo qua io lo sto andando per scontato ma è il simbolo appartiene ok quindi fdn fa parte dello grande di gdn questo qua è un insieme di funzioni questa è una funzione dicevo fdn appartiene a o grande di gdn all'insieme di o grande di gdn se questa cosa è vera quindi cosa abbiamo fatto abbiamo definito questa classe queste classi di funzioni ad esempio ad esempio ci possiamo chiedere ok cosa fa parte ad esempio della classe o grande di n beh fanno parte quindi adesso abbiamo definito abbiamo fissato che gdn è n ok quindi faranno parte tutte quelle funzioni tali per cui tutte quelle funzioni fdn tali per cui limite prende sentito infinito di fdn fratto n è minore di infinito ma quali sono queste funzioni? quali sono queste funzioni? beh sicuramente se fdn è una costante questa cosa è vera perché come abbiamo detto il limite di una costante fratto n per la costante infinito fa 0 e 0 è minore di infinito quindi sicuramente tutte quante le costanti 5 6 20 200 42 1000 tutte quante fanno parte dello grande di n quale altre? che ne so per esempio n fa parte dello grande di n beh sì perché n fratto n fa 1 e quindi ci sta è minore di infinito ma ad esempio che ne so 5 n più 22 sì anche lui fa parte perché il limite farà 5 in questo caso sì perché 22 se ne va 5 n fratto n fa 5 cos'è che non fa parte? beh ad esempio che ne so n quadro più 2 non fa parte dello grande di n perché non fa parte? perché il limite di n quadro più 2 fratto n fa infinito e non è minore di infinito e quindi lui non fa parte mentre lui fa parte dello grande di n lui non fa parte dello grande di n ok cancelliamo il mio computer ha deciso che cancellare è un'operazione troppo complicata va bene ci prendiamo la velocità che decide di offrirci il mio computer perfetto allora ma quindi adesso abbiamo appena trovato la classe o grande di tutte quelle operazioni costanti che abbiamo detto prima questa è la classe o grande di 1 perché? perché se riapplichiamo la definizione noteremo che qualunque costante è 1 grande di 1 5 20 70 qualunque di questi numeri fratto 1 è ancora un numero è ancora un numero finito è ancora un numero che non è infinito e quindi con o grande di 1 possiamo descrivere la complessità computazionale di tutte quante le operazioni costanti ok quindi in un qualche senso o grande di 1 è quella classe di tutte quante le funzioni che crescono al massimo quanto quello che c'è dentro a meno di una costante cosa intendo perciò se io ho facciamo o grande di n ok tutte le funzioni che sono grandi di n sono quelle funzioni sono tutte quelle funzioni che crescono ok tipo questa tipo che so questa ma anche la funzione costante ok sono tutte quelle funzioni che crescono come n a meno di un fattore costante quindi questa qua per esempio sarà n per qualcosina ok sono tutte quelle che crescono più lentamente di n per un fattore costante cosa non è o grande di n ad esempio una cosa che cresce parabolicamente quindi tipo n quadro questa non è un o grande di n perché non è più piccola di n a meno di un fattore costante questa qua cresce più velocemente questa è la stessa intuizione bene o grande non è l'unico simbolo di landau ce ne sono sei che ci servono per appunto descrivere un po' di classi di funzioni quindi allora cosa abbiamo ben detto che scriviamo tutti va facciamo un bello specchietto che f di n è uno grande di è un f di n appartiene agli o grandi di g di n ok se il limite per n che tende è infinito di f di n fratto g di n è minore di infinito questa è la prima poi abbiamo che f di n è un o piccolo di g di n se il limite per n che tende a infinito di f di n fratto g di n saranno tutti così f di n fratto g di n uguale a zero adesso poi do un'intuizione per tutti poi abbiamo che f di n è un omega grande questa lettera qua si chiama omega maiuscola è un omega grande di g di n se il limite per n che tende a infinito di f di n fratto g di n è maggiore di zero si maggiore di zero ok poi abbiamo che f di n è un omega piccolo di g di n se il limite per n che tende a infinito di f di n fratto g di n è uguale a infinito e e ultimo abbiamo che f di n è un teta grande di g di n se il limite anzi facciamo così se se f di n appartiene a o grande di g di n e f di n appartiene a omega grande di g di n ok allora parliamo un attimo abbiamo fatto praticamente tutti i casi del limite di f di n fratto g di n quindi abbiamo detto che o grande in un qualche senso è questa nozione che la funzione sopra è minore uguale della funzione sotto questa è un po' la nozione intuitiva o piccolo è invece uno strettamente minore cioè vogliamo che f di n sia strettamente più piccola di g di n a meno di una costante sempre quindi per esempio mentre n è uno grande di n n non è uno piccolo di n perché appunto deve essere un minore stretto in questo senso cos'è uno piccolo di n tutte le funzioni costanti perché costante fratto n fa 0 poi abbiamo un omega grande omega grande invece è la nozione che è maggiore uguale che f di n è maggiore uguale quindi ad esempio n è un omega grande di n n quadro è un omega grande di n omega piccolo è la nozione del maggiore stretto ok quindi n non è un omega piccolo di n perché il rapporto fa 1 nel caso specifico di n e quindi non è infinito invece per esempio n quadro è un omega piccolo di n e quindi il rapporto fa infinito tu ci sei in fundo teta grande invece è la nozione che una cosa è in questi sensi sia minore uguale perché o grande sia maggiore uguale perché omega grande e quindi sono tutte quelle funzioni che crescono in modo uguale a meno di una costante quindi che ne so 2n più 5 3n più 4 ok in questa notazione di teta grande sono uguali oppure che ne so anche 22n più 20 è un teta grande di n sia se è invece maggiore quindi per esempio un n quadro non è un teta grande di n sia se è minore quindi per esempio 1 non è un teta grande di n ok e questi sono i 5 i 5 simboli di Landau in realtà prima avevo detto che erano 6 perché come c'è maggior uguale perdon minor uguale minore stretto maggior uguale maggiore stretto questo quindi è l'uguale largo quello che manca sarebbe l'uguale stretto che in realtà non si usa mai in teoria come stagmettazionale che è quando sempre la stessa cosa limiti di f di n fra g di n uguale a 1 quando è esattamente uguale a 1 e si descrive con asintotico che è questo simbolo qua bene questi sono quindi tutti i simboli di Landau detto ciò detto ciò possiamo quindi ora iniziare a ragionare in termini di calcoliamo quanto ci costa calcolare la nostra funzione ad esempio prendiamo la funzione della pestellatura del bagno quindi f di anzi cominciamo con una più semplice va prendiamo la funzione del fattoriale quindi f di 0 uguale a 1 e f di n uguale a n per f di n-1 ok vogliamo calcolare qual è la classe di complessità di questa funzione come facciamo? lo possiamo fare un po' però lo facciamo spagnometricamente prima di introdurre metodi più formali per farlo allora partiamo dai regori di base abbiamo detto che tutte quante le operazioni base quindi moltiplicazioni sottrazione addizione modulo e quant'altro sono per essere un pochino più precisi dei teta grandi ci costa teta grande di 1 in termini di tempo ok teta grande perché in realtà è proprio esattamente costante non è più piccolo di costante non è più grande di costante ok allora cosa facciamo? diciamo beh se dobbiamo calcolare f di n cosa devo fare? devo fare questo per che mi costa teta grande di 1 ok devo fare questo per più il costo di che chiamiamo c più il costo di f di n meno 1 giusto? dove anche calcolare n meno 1 mi costa costante quindi sempre costante a sua volta il costo di f di n meno 1 sarà ancora 1 o grande di 1 più il costo di f di n meno 2 e non ci vuole tanto per vedere che quindi il costo di questa funzione sarà n per teta grande di 1 sarà n per teta grande di 1 ok perché? è perché questa funzione verrà chiamata n volte perché ogni volta verrà chiamata con meno 1 al parametro finché non arriva alla fine e a quel punto anche dire 1 ci costa tempo costante quindi il costo di questa funzione sarà n per teta grande di 1 che un'altra cosa bella dei simboli di Landau che possiamo portare dentro le costanti che spariscono e i fattori che rimangono diventerà un teta grande di n ok quindi questa funzione ci costa per calcolarla un tempo lineare teta grande di n bene invece ad esempio la funzione per il bagno quindi f di 0 è uguale a f di 1 che è uguale a 1 sì e poi f di n questo è il bagno piastrellabile con due tipi di piastrelle in quanti modi possiamo piastrellare il bagno con due tipi di piastrelle uguale a f di n meno 1 più f di n meno 2 ok questa era la nostra soluzione vediamo un po' come si comporta quando la calcoliamo f di n cosa succederà? che farà due computazioni cioè ovviamente in mezzo c'è un più e come sempre questo ci costa un teta grande di 1 farà due computazioni farà la computazione f di n meno 1 e la computazione f di n meno 2 però a loro volta ognuna di queste due si splitterà in due e poi a loro volta ognuna di queste due si splitterà in due in realtà non si splittano esattamente in due ogni volta ci saranno alcuni rami che non si splittano perché avranno raggiunto uno dei casi base quindi quello che sappiamo è che ogni volta che stiamo calcolando f di n ci costerà al più al più due volte il costo di quelle più piccole ok possiamo dire che al più dobbiamo fare due chiamate ma quindi se dobbiamo fare al più due chiamate per passare a qualcosa che al massimo è diventato n meno 1 quante chiamate dobbiamo fare adesso per passare a qualcosa che al massimo è diventato n meno 2 beh al più 4 e qual è il dopo cosa diventerà al più 8 e così via perché sicuramente ci capiterà che alcuni rami non dobbiamo più visitarli non dobbiamo più calcolarli perché siamo arrivati a uno dei due casi base o 0 o 1 e quindi per questo al più e perché raddoppia perché ogni volta al più raddoppia perché deve chiamare sia n meno 1 che n meno 2 quante volte al massimo succederà questa cosa beh ogni volta al meno di 1 stiamo decrementando perché qua c'è n meno 1 poi qua il massimo sarà n meno 2 qua il massimo sarà n meno 3 quindi al massimo questa cosa capiterà n volte ma quindi se abbiamo una cosa che al più raddoppia e notare non è esattamente raddoppia è al più raddoppia e lo facciamo al più anzi non è esattamente però lo facciamo al più n volte cosa sarà? questo qua probabilmente sarà un qualcosa che è minore uguale a meno di costante ovviamente perché c'è questo teta grande di 1 che si occupa di queste costanti sarà quindi un O grande perché è minore uguale di 2 alla n ok? so che queste cose la prima volta che si vedono possono essere molto complicate quindi se avete domande per favore fatemene spero sia chiaro il motivo per cui qua è O grande e non teta grande teta grande è quando sappiamo che è quello sempre a meno di una costante non è di più non è di meno O grande è quando potrebbe essere anche meno perché qua non sappiamo esattamente quante funzioni stiamo chiamando sappiamo che al più sono queste e quindi O grande ci dà questa nozione che al più stiamo facendo questa quantità di lavoro infatti di solito e adesso ho vinto tutti i simboli di Landau ma di solito si può tranquillamente ragionare solo in termini di O grande perché normalmente non ci interessa tanto esattamente quanto tempo ci mette il nostro algoritmo ma ci serve sapere una stima al più di quanto ci mette ok quindi è venuto O grande di 2 alla n mentre quello di prima era un teta grande di n se non mi ricordo male ok chiameremo questa classe queste classi di complessità polinomiali quali sono le classi polinomiali sono tutte quelle classi che si possono che sono un O grande di n alla k per un qualche k per un qualche k intendo mi va bene n alla 100 n alla 1000 non mi interessa basta che non sia infinito chiameremo polinomiali quindi che ne so gli O grande di n gli O grande di n quadro gli O grande di n cubo gli O grande di 1 sono tutti polinomiali perché sono quelli che possiamo esprimere come un qualche n alla k invece quelli che non possiamo esprimere in questo modo quindi ad esempio 2 alla n non lo possiamo esprimere in questo modo perché notate bene che questo qua è una variabile quindi non esiste una qualche costante che è sempre migliore di quella variabile che avrò anche sempre maggiore di quella variabile queste qua le chiameremo complessità esponenziali quindi queste qua sono le polinomi polinomiali e queste invece sono le esponenziali ok perché facciamo queste distinzioni beh vediamo un attimo perché in questo momento stiamo parlando di funzioni numeri un po' stratti variabili ma tutto questo come si traduce in faccio un programma che fa questa cosa e quanto tempo ci mette vediamolo facciamo un bel grafico sì storto come pochi facciamo un bel scusatemi ma ok facciamo un bel grafico bene quindi questo n e questo è il tempo calcolato con le nostre funzioni con le nostre con le nostre classi non è difficile vedere che ad esempio una o grande di n crescerà più o meno così ok questa è una per esempio o grande di n al massimo crescerà circa così una costantissima una costante crescerà non crescerà perché deve essere una parallela della stella x una quadratica ad esempio potrebbe crescere così ok sto solo portando i grafici un'esponenziale ad esempio crescerà così tipo una 2 alla n ok cos'altro abbiamo qua in realtà abbiamo altre funzioni in mezzo per esempio potremmo avere un o grande di radice di n che è come se fosse n a un mezzo ok e poi tra l'altro abbiamo anche una delle funzioni che abbiamo definito l'altra volta che vi dico essere qua che è il logaritmo il buon caro vecchio logaritmo ok che cresce più lentamente della radice bene quindi questo più o meno è come crescono le varie funzioni è l'ordine di velocità con cui crescono le funzioni ora assumiamo che un computer moderno in un secondo riesca a fare 10 alla 8 operazioni 10 alla 8 sono 100 milioni facciamo quindi che un computer moderno riesca a fare 10 alla 8 operazioni al secondo questo cosa vuol dire che se abbiamo un allora intanto se abbiamo un algoritmo costante ovviamente non importa quanto è grosso il nostro input quanto è grosso n ci metterà comunque un tempo costante quindi ci interessa poco se abbiamo ovviamente un algoritmo invece lineare quindi un o grande di n con o grande di n quante operazioni potremo fare all'incirca cioè quanto quanto n può essere grosso all'incirca per poterlo processare in un secondo beh ovviamente sarà circa 10 all'ottava perché se facciamo 10 all'ottava operazione seconda su quale lineare potremmo avere degli n grossi come 10 all'ottava ma se invece avessimo un algoritmo che ci mette n quadro vogliamo fare abbiamo al massimo 10 all'ottava operazioni ovviamente se abbiamo 10 all'ottava come n non ci mettiamo 10 all'ottava operazione ci mettiamo 10 alla 16 operazioni perché al quadrato quindi vuol dire che al massimo in un secondo se il nostro algoritmo ci mette uno grande di n quadro vuol dire che in un secondo possiamo al massimo gestire n grossi fino a 10 alla quarta vedete già che avendo anche solo una differenza di lineare da quadratico da n a n quadro l'n che possiamo gestire è infinitamente più piccolo perché questo è 100 milioni questo è 10 mila ancora peggio ancora peggio mettiamo che abbiamo un o grande di 2 alla n ok uno grande di 2 alla n qual è quel numero n tale che 2 alla n facci il 18 perché è questo che ci stiamo chiedendo praticamente perché se il nostro logaritmo ci mette 2 alla n operazioni noi possiamo fare 10 all'ottava quanto sarà il massimo n che possiamo gestire in un secondo non è tanto non è assolutamente tanto è circa adesso lo stimo sarà fatemi pensare un attimo allora perché 30 è circa un miliardo quindi 29 sarà mezzo miliardo 28 sarà 250 50 milioni 27 sarà 125 milioni quindi è circa 26 ok cioè vedete che la complessità dell'algoritmo fa tantissimo siamo passati da un lineare quindi tipo il fattoriale che riuscivamo a gestire n fino a 100 milioni che è tantissimo invece con l'algoritmo che abbiamo trovato adesso per per rispondere alla domanda del piastrellamento e cavolo possiamo sappiamo in quantità di piastrellare bagni fino a 26 celle provateci se voi scrivete l'algoritmo per chi di voi sa già scrivere codice se provate a scrivere quell'algoritmo così puro e crudo come l'abbiamo fatto per il piastrellamento del bagno se provate con tipo n uguale 20 termina quasi subito quasi subito sì quasi subito se invece provate a mettere tipo n uguale 50 rimane là inchiodato non ce la fa più perché se proviamo a stimarlo quindi questo abbiamo detto che è circa facciamo 2 alla per semplicare facciamo che circa 2 alla 25 ok che non è vero è un bel differenza però facciamo che 2 alla 25 se provate a piastrellare un bagno di 50 con questo algoritmo farà 2 alla 50 operazioni ma se facciamo 2 alla 25 operazioni al secondo vuol dire che questa cosa ci metterà 2 alla 25 secondi ma quanti sono 2 alla 25 secondi sono tanti 2 alla 25 secondi siamo sull'ordine dei 100 milioni di secondi tipo che quindi mettiamo proprio ora sto facendo stime su stime ma secondo me siamo tranquillamente sull'ordine dei giorni se non degli anni di computazione quindi carpite il fatto che il la complessità computazionale fa tantissimo bello trovare un algoritmo corretto è il primo step ma la seconda cosa che adesso dobbiamo cominciare a considerare è che questo algoritmo deve terminare in un tempo ragionevole normalmente alle regionali avete più o meno in realtà potete permettervi di più di un secondo di computazione perché avete tre ore di gara voi potete gestire come volete potete far girare le soluzioni quanto volete quindi in realtà per carità potete fare anche potete permettervi di fare magari anche la dici alla nona quindi un miliardo di operazioni come tempo ragionevole per risolvere il vostro problema però anche se avete un miliardo di operazioni questo bene quadratico bene anche lui ma se la vostra soluzione è esponenziale che abbiate un secondo o un'ora di tempo un esponenziale per un n che magari mettete che risolve un problema dove n è al massimo mille e avete un esponenziale due alla mille operazioni non ce la fate neanche col computer più potente del mondo da adesso affinché non il sole non ingloba la terra cioè questi sono gli ordini di grandezza del tempo che ci metterebbero le soluzioni ci metterebbero le soluzioni esponenziali con un n anche solo uguale a mille ok quindi cosa tirare fuori da quello che ho detto oggi parleremo delle complessità computazionali degli algoritmi interni di classi non in termini di esattamente quante operazioni fanno ma in termini della classe del numero di operazioni che fanno quindi lineare quadratico qua cosa abbiamo abbiamo logaritmo poi abbiamo una radice abbiamo lineare poi tipo qua in mezzo possiamo mettere un n log n possiamo anche moltiplicare cosa che abbiamo n log n è in mezzo tra n e n quadro ovviamente abbiamo 2 alla n abbiamo cose peggiori di 2 alla n in realtà ad esempio potrebbe capitare algoritmi che hanno come complessità adesso questa qua la faccio proprio storta ma ad esempio potremmo avere n fattoriale come complessità che è peggio di 2 alla n e ogni volta in base al problema perché poi ogni problema ha le assunzioni cioè vi dicono n al massimo quanto può essere dovremmo ragionare quindi non solo di trovare una soluzione corretta ma di trovare una soluzione corretta che abbia una complessità computazionale che gli permette di stare in un tempo di poterla calcolare in un tempo ragionevole solitariamente nell'ordine di qualche secondo per le regionali per le territoriali si chiamano bene allora prima cosa domande ci sono domande su qualunque delle cose che abbia detto oggi vediamo quanta gente è ancora viva abbastanza tipo 14 15 o grande di 1 persone ancora vive ok vi lascio un esercizio per quelli che già sanno scrivere codice perché non so scrivere codice non vi preoccupate per ora ignoratelo magari lo farete più avanti fate un programma che stampa una stima di quante operazioni vorrei che faceste un programma che dato un limite massimo di operazioni quindi dato un input che ne so dice l'ottava ovviamente è scritto come 100 milioni non come dice l'ottava 100 milioni un miliardo da roba del genere dato il numero massimo di operazioni stimi qual è l'n massimo per queste classi di complessità ok qual è il massimo n gestibile in quel numero di operazioni per queste classi di complessità così da fare uno specchietto magari non solo questa classe di complessità anche se ne vengono altre interessanti cosa deve avere uno specchietto di quante operazioni al massimo cioè quanto al massimo può essere grande n avendo un algoritmo con una certa complessità computazionale così da avere in mente diciamo un threshold di se n in questo problema è più grande di questo allora un algoritmo di questa complessità non va bene ok questo è l'esercizio per domani se qualcuno lo risolve su telegram mi mandate il sorgente detto ciò chiedo di nuovo se ci sono domande un'esercizio un'esercizio